sono le quattro e mezza sono andando in giro di notte per cracovia cercando di fare qualche foto perché altre volte mi sono alzato anche ad altri rari ma era sempre pieno di turisti quindi adesso sto cercando alle quattro e mezza di avere la possibilità di fare qualche foto magari anche con delle luci migliori ma soprattutto senza turisti speriamo bene allora posso dire che non c'è nessuno prometto abbastanza bene il tutto sono praticamente solo al centro di cracovia continuo il nostro giro e vediamo di fare altri scatti altra foto notturna a cracovia c'è pochissima luce ma intanto sto continuando a fare delle foto notturne guardate che bello ciao 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 ciao